Giovanni Camarda, chi è costui? Devo dire che se andiamo in giro non è molto conosciuto. E' un giornalista del quotidiano. Vedete, io in questa sede parlo da consigliere comunale, è preciso che ho il massimo rispetto dei giornalisti. Vengo, infatti sono un giornalista anch'io, vengo da 21 anni di carriera di attività giornalistica e sono stato sempre un giornalista feroce. Ma vedete, una cosa è il diritto di critica, altra cosa è l'accanimento e il voler sbeffeggiare qualcuno. E' una cosa non corretta deontologicamente. E allora andiamo subito al nocciolo della questione, caro Giovanni Camarda. Da un po' di tempo a questa parte, non so per quale motivo, ma io ho qualche idea, ce l'ho, però lasciamola perdere. Hai iniziato a bombardare l'amministrazione Melucci. Per carità, sei libero di farlo? E' giusto, anzi, che un giornalista faccia il cane da guardia dell'informazione, della corretta attività amministrativa? E' giusto, è giusto la critica, anche quella dura, anche quella feroce, tra virgolette. Però, caro Camarda, esiste un limite a tutto. Io ho, proprio qualche giorno fa, pubblicato un post, un video su Facebook, in cui ho fatto vedere il mio impegno, il risultato ottenuto per il conseguimento, il ripristino della pubblica illuminazione in via Padre Cocco e via Cesare Battisti, in quella zona lì, percorrendo la quale si arriva alla strada per San Giorgio. E ho detto, ho denunciato questa criticità, i lampioni, i pali della pubblica illuminazione c'erano, però erano spenti, non funzionanti. Ho insistito con l'assessore ai lavori pubblici, l'avvocato Mimo Ciracci, e dopo una decina di giorni, circa, più o meno 7-10 giorni, la pubblica illuminazione è stata ripristinata. E ho detto, io sono un consigliere del fare, perché non è certamente una novità, io sono un consigliere che consuma le suole delle scarpe dalla mattina alla sera, sono un consigliere che gira, appunto, la città, e quindi ovviamente raccolgo le segnalazioni e le porto nelle sedi competenti, assessorati e direzioni. E quindi abbiamo risolto questo problema, abbiamo ripristinato la pubblica illuminazione, a beneficio dei cittadini, non certo a mio beneficio, visto che non abito lì, quindi non avevo nessun interesse. E ho detto, sono un consigliere del fare. Cosa scrive il signor Camarda? Che bisognerebbe usare i social con maggiore accortezza e soprattutto valutando bene cosa postare, cosa scrivere e cosa non. Il consiglio vale anche per Luigi Abate, che dicono sia molto attivo sulle varie piattaforme, pur avendo interdetto a chiunque la possibilità di commentare. Chissà come mai. In ogni caso, la sua ultima esternazione non sembra felicissima e perlomeno lascia un po' nel dubbio. Abate si è definito un consigliere comunale del fare, senza rendersi conto di aver lasciato pericolosamente la frase a metà. Perché lui dice consigliere del fare che cosa e lui aggiunge che perché fare può voler dire tutto e niente e soprattutto cose positive o negative. Fai meno lo spiritoso con me, caro Camarda, perché l'espressione consigliere del fare è inequivocabile. Vuol dire, significa un consigliere che fa i fatti, un consigliere che ottiene i risultati, un consigliere fattivo in senso positivo. E se non hai compreso questo, evidentemente o non riesci a comprenderlo, ed è strano perché credo che tu abbia una intelligenza che rientra nella media, oppure tu l'hai compreso bene e hai voluto però giocare sugli equivoci con un comportamento, credimi, proprio piccolo piccolo, meschino. Ah, per concludere, ti invito anche a approfondire, a migliorare il modo di scrivere la lingua italiana, l'uso della lingua italiana, perché non si inizia mai un periodo dopo il punto, il perché. Mai. Non hai messo aver lasciato pericolosamente la frase a metà, punto. Perché fare può voler dire tutto e niente e soprattutto cose positive o negative, punto, per chiarire. Non si scrive così. Errore da matita blu, caro Camarda. La tua professoressa ti avrebbe dato tre o quattro, ma io non voglio fare il professore. Non mi ergo a professore come fai tu. Capito, Camarda?